Vi presentano la recita di Natale dal titolo Savventù. Vi preghiamo di prestare il massimo silenzio per la concentrazione dei piccoli artisti che reciteranno e canteranno con i coristi in limba. Ci studiamo per gli eventuali errori dati dalla forte emozione e auguriamo a tutti voi buona visione e buon ascolto. Grazie a tutti. Gesù, con la sua venuta sulla terra, porta a tutti gli uomini. La nascita del Salvatore era stata annunciata molto tempo prima dai profetti. Infatti, nel libro di Isaia si legge Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Santo, 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 Su Signore Deo Santo, 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 Su Signore Deo Grazie a tutti. 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 diventare la mamma di Gesù su Salvatore. Ma come te voler essere? Deo non conoscevo bene. Non ti peruse, Maria. Deo pensavo a tutti. E si, allora. Se usa la selva del suo Signore. Deo pensavo a tutti. E si, allora. Maria vera e grazia su signore suntempo, bene in tazes tu e in pedo di semia, e bene in tu sucro tu e sin tragnas tu a Gesù. Santa Maria, mamma e te, prega uno satero spedicatore, non mori sola e salmote non spera mi Gesù. Mentre Giuseppe in cuor suo pensava alla sua giovane sposa, ecco a parire l'insonnio un angelo del Signore che gli disse Giuseppe, discendente di Davide, non avere paura di sposare Maria, il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito Santo. Maria fatturirà un figlio e tu gli metterai il nome di Gesù, perché? Egli salverà il suo popolo da tutti i peccati. Maria fatturirà un figlio e grazie a tutti i peccati. Maria fatturirà un figlio e grazie a tutti i peccati. Maria fatturirà un figlio e grazie a tutti i peccati. While iscrivabili tra il suo edificio e grazie a tutti i peccati. Maria fatturirà un figlio e grazie a tutti i peccati. Questa è la mia vita, sono la sua vita e a tutti i peccati. Maria fatturirà un booking e grazie a tutti i peccati. Grazie. 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 In quel tempo, l'imperatore Augusto, con un decreto, ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. Tutti andavano a far scrivere i loro nomi nei registri e ciascuno nel proprio luogo d'origine. Anche Giuseppe andò da Nazareth in Galilea a Betlemme in Giudea. Grazie. Allora, oggi fanno andare a Betlemme o un fiaggio. Allora, oggi fanno andare a Betlemme in Giudea. Mentre si trovavano a Betlemme, giuseppe e Maria il tempo di partolire. La stanchezza si faceva sentire sempre più e vi era l'ugente necessità di trovare un luogo in cui poter riposare. La stanchezza si faccia sempre più e vi era l'ugente necessità di trovare un luogo in giudea. Sì, oggi cando un muletto per si sposa mia. Sì, oggi c'è un po' di sposa, non c'è un po' di sposa, non c'è un po' di sposa, non c'è un po' di sposa. Sì, oggi c'è un po' di sposa, non c'è un po' di sposa. Sì, oggi c'è un po' di sposa, non c'è un po' di sposa, non c'è un po' di sposa. Bene Maria, entro in una gruta. Grazie. 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 Grazie.